Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, a Villino. Non vedo l'attinenza fra primaria e simbolo, chiedo scusa. Il simbolo ci può stare sempre, sia con le primarie sia senza primarie. La domanda non la trovo, cioè le due cose non sono legate. Ribadisco quello che ho detto lunedì, il Partito Democratico, e ho detto anche una cosa banale, nei paesi con cittadini superiori ai 15.000 deve presentarsi con il proprio simbolo. Le fratture, se e quando ci sono, sono fatte per essere ricuscite. Le primarie sono sempre uno strumento, bisogna verificare caso per caso quando sono utili e quando no, lasciando ovviamente massima autonomia ai segretari provinciali di decidere, questo non aspetta a me. Oggi è la prima riunione, quindi sto qui per ascoltare qual è la situazione. Quello che deciderà il partito di Avellino per me è legge. Questa è la fase iniziale, poi si troverà la sintesi. Segretario, senza primarie è chi si candida non nella lista del PD e fuori dal PD? Ma guardi, noi siamo oggi, malgrado il tempo sia stretto, noi stiamo per ricostituire tutte le anime del PD. Questa è una domanda che andrà fatta alla fine del processo, non all'inizio.